E ora parliamo di una importante scoperta archeologica. Andiamo a Capolona dove c'è Ilaria Vanni. Ilaria, benvenuta. Ciao Gloria, eccoci. Noi ci troviamo in questo scavo archeologico che in questo momento è sospeso, però a fine 2022 ha portato alla luce importantissime scoperte. Ci troviamo alle Torri di Belfiore, questo è il toponimo corretto. Insieme a me c'è il sindaco di Capolona, Mario Francesconi, e due archeologi che stanno seguendo proprio lo scavo in questa area. Si tratta di Riccardo Bargiacchia e Dimitri Pizzuto. Intanto comincio dalla parte archeologica per fare un'introduzione ai nostri telespettatori. Questo sito e gli scavi di fine anno, di tutto il 2022, hanno portato alla luce importanti novità. Quali sono? Sì, finisco intanto le presentazioni. Riccardo Bargiacchia e Dimitri Pizzuto facciamo parte della cooperativa che è stata incaricata dello scavo. Si tratta di Laboratori Archeologici San Gallo, spin-off accademico dell'Università di Firenze, che ha lavorato per conto della soprintendenza, soprintendenza archeologia, paesaggio per le province di Siena, Grossietto e Arezzo. Infatti, guarda, ti tolgo la parola solo per ringraziare anche la possibilità di fare le immagini, di realizzare le riprese qua, perché abbiamo chiesto un permesso speciale. Sì, infatti, è la soprintendenza che ha la direzione scientifica nella persona della dottoressa Adasalvi. Per quanto riguarda le indagini dell'anno scorso, ma che si legano anche alle indagini dell'anno precedente, perché il progetto è iniziato nel 2021, hanno messo in luce una struttura castrense, un vero e proprio castello, anche articolato nei suoi ambienti interni, nella sua scinta murale esterna, intorno a quella che era pressoché l'unica testimonianza archeologica evidente prima degli scavi stessi. Ecco, quindi qui è una sorta di castello nel castello, cioè ci sono più perimetri? Questo sostanzialmente è una delle ipotesi interpretative finali della planimetria che abbiamo ricostruito, e che probabilmente il castello sia effettivamente costituito da una scinta murale esterna di cui si intravedeva qualcosa e di cui c'era notizia anche nella cartografia storica, nel Catasto Leopoldino. Una scinta murale esterna con una scinta interna a delimitare un ridotto difensivo interno che di solito corrisponde a quello che viene definito cassero e che potrebbe corrispondere all'insieme di ambienti che si trovano in questa zona alle spalle, verso ovest della torre. Ecco, questo toponimo è anche una delle parti su cui avete focalizzato la ricerca per un convegno che ha presentato il risultato dei lavori, siamo curiosi di saperne di più. Tra l'altro ci sono testimonianze anche intorno all'anno 1000 di questo insediamento. Sì, per quanto riguarda il toponimo, principalmente ricorre il plurale, cioè torri di Belfiore, anche se non mancano attestazioni sia anche cartografia che bibliografia del toponimo al singolare. E questa era tematica da approfondire perché la torre visibile era soltanto questa, una. In realtà avevamo delle ipotesi, anche prima dello scavo, che ha escluso l'esistenza anche a livello di fondamenta di un'altra struttura turiforme all'interno. La nostra ipotesi è che potesse essere stata considerata come seconda torre una torretta d'angolo che si trova, era l'unico altro elemento visibile insieme a questo muro a sud, un angolo a nord-est in cui si conservava una torretta d'angolo che andava a impreziosire la cinta murale esterna. E invece Belfiore? Concludo con la torretta perché sospettavamo potesse essere quella e ne abbiamo avuto conferma perché un'indagine negli archivi di foto storiche della sovrintendenza, alcune foto datate tra gli anni 20 e gli anni 40, hanno effettivamente testimoniato l'esistenza di una torretta d'angolo che non si conserva più soltanto a livello del piano di campagna attuale, ma sporgeva anche quella quasi per una decina di metri come la torre principale stessa, per cui torri. Belfiore invece è ufficialmente attestato nella documentazione, così risponde anche alla seconda parte della domanda precedente, cioè la prima attestazione del sito. Ufficialmente come Castello di Belfiore è un'attestazione tarda del 1385 e ci parla del passaggio di questo Castello di Belfiore alla Repubblica di Firenze, siamo gli anni in cui aveva conquistato Arezzo stessa, quindi è un momento di espansione di Firenze nel contato. Ma non è la prima attestazione del castello. La prima attestazione dovrebbe essere un'attestazione pubblicata da Repetti e che ci riporta ad un diploma imperiale di Federico Barbarossa del 1161, in cui però si parla più propriamente del Castello di Ponina. Però abbiamo fondate basi per poter ritenere che questo toponimo antico di origine etrusca, Ponina, potesse essere applicato anche a questa struttura castrenza, a questo castello, così come è stato applicato alla sottostante chiesa di Santa Pollinare, attualmente in località al Santo, ma in passato appunto denominata Santa Pollinare a Belfiore o a Ponina. Quindi il vicino villaggio di Ponina, tuttora esistente, essendo un antico toponimo di origine etrusca, era diventato un punto di riferimento territoriale anche per le altre emergenze. Si può ipotizzare che il Castello di Ponina del 1161 sia proprio il nostro castello. Allora, Gloria, hai sentito praticamente una lezione, una lezione magistralis in pochi minuti. Io ringrazio Riccardo Bargiacchi, che è uno degli archeologi appunto, che oggi ci porta qua in visita allo scavo delle torri di Belfiore. Intanto chiedo al sindaco Mario Francesconi di raggiungerci, perché Luca Bursi, che sta curando le riprese, vuole farvi vedere proprio il cuore di questo scavo. E con il sindaco, senza farci male, stiamo attenti. Gloria, vorrei chiudere dicendo quale sarà il futuro di questa zona, perché l'amministrazione vuole investire in cultura e nella conoscenza di questo territorio per le scuole, ma per tutti i turisti che verranno da ogni parte d'Italia. Certamente, certamente la nostra intenzione, lo è già da tempo, perché sono oramai tre anni che stiamo investendo in questo sito, abbiamo ripreso un vecchissimo progetto, e gli abbiamo dato gambe trovando dei finanziamenti, che è partito con il restauro della torre, che non era in queste condizioni. L'architetto Bargiacchi e Dimitri lo sanno benissimo, che era veramente molto deruta e ci domandavamo come potesse rimanere in piedi. È stato prima fatto il restauro della torre, e dopo di che, avendo permessi successivi chiesti alla sovrintendenza, abbiamo cominciato a scavare nelle zone circostanze e abbiamo avuto la sorpresa di trovare quello che voi vedete e quindi abbiamo continuato ad investire su questo, credendo che questo sito, insieme a tantissimi altri del nostro comune, l'architetto Bargiacchi ha citato il villaggio di Ponina qui sotto, piuttosto che la chiesa di Santa Pollinare, il santo proprio qui, che insieme, che è una pieve, come le altre sei che abbiamo nel nostro territorio di Capolona. Quindi è un territorio ricco nelle frazioni di storia, ricco di reperti, ricco di monumenti, e noi intendiamo attraverso questi interventi, ai quali seguiranno sicuramente anche altri, dargli comunque la notorietà e farlo conoscere per quello che effettivamente è. Si parlava prima di collegarci dell'estate e della primavera per cominciare qui a portare gruppi di turisti. Per quanto riguarda Qui Bel Fiore, abbiamo in previsione, ora nei prossimi, nel prossimo mese, perlomeno sicuramente in primavera, di fare la prima giornata di visite guidata, aprendo il sito sotto la giurisdizione della sorrintendenza, portando dei turisti e in precedenza, in tempi diversi, anche portare le nostre scuole, in maniera tale che possano essere a conoscenza di quello che abbiamo. Grazie, grazie al sindaco Mario Francesconi, grazie agli archeologi che ci hanno guidato all'interno di questo sito. Gloria, ti restituisco la linea, lo so che siamo stati un po' a lunghi, però davvero è una meraviglia essere qui. Invitiamo tutti a prenotarsi per le visite. Ciao Gloria. No, infatti, sono anche contenta che non ci sarà da aspettare molto affinché tutti possano recarsi lì ad ammirare questa anche nuova scoperta che si va ad aggiungere ad un sito già molto interessante. Grazie Laria.